Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo purtroppo ancora con un fatto di cronaca perché un escursionista è morto sul versante terramano del Gran Sasso. Si tratta di Maurizio Persieri, romano di 49 anni, vigile del fuoco. Il corpo è stato recuperato con l'elisoccorso del 118 dell'Aquila con a bordo un tecnico del soccorso alpino. L'incidente è avvenuto sul ghiacciaio del Calderone al Corno Grande. Dalle prime informazioni l'escursionista sarebbe scivolato per 200-300 metri finendo contro un costone roccioso. L'allarme è stato dato al 118 dall'amico che era con lui per questa escursione. Quando i medici sono giunti sul luogo dell'incidente non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell'uomo. Sul posto anche una squadra, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per recuperare il compagno in evidente stato di shock. E torniamo alla vicenda che ha riguardato la morte di Esther Pasqualoni perché il sindaco di Roseto degli Abruzzi Sabatino di Girolamo esprime a nome di tutta la comunità rosetana il cordoglio per la famiglia dell'oncologa vittima della furia omicida di Enrico Di Luca, ritrovato suicida ieri mattina a Martinsicuro. Per il giorno delle esequie della 53enne oncologa dell'ospedale Val Vibrata a Roseto sarà proclamato il lutto cittadino. La mia città è scioccata perché si ripete che è un fenomeno che interessa tutta l'Italia con modalità terribili. La nostra concittadina è stata uccisa in modo veramente barbaro e abbiamo deciso proprio di raccogliere il sentimento di turbamento, di cordoglio di tutta la città dichiarando appunto il lutto cittadino in coincidenza con i funerali. La Commissione Pari Opportunità inoltre del mio comune organizzerà una fiaccolata probabilmente nella serata di domani sera sabato proprio per continuare a sensibilizzare tutti su questa tragedia che sta investendo il nostro paese, su queste donne che vengono uccise in gran numero ogni anno per questioni veramente futili e deprecabili. Dobbiamo continuare in un'opera di sensibilizzazione su questo tema. Esther era un grande medico, soccorrevole. Tutta la mia città, specialmente coloro che soffrono per avere un malato oncologico in casa, la conoscevano, ne conoscevano l'umanità, la sensibilità. Non meritava certamente una morte così tragica e dobbiamo appunto quindi sensibilizzarci tutti, sensibilizzare le istituzioni ad essere più vicini alle donne che subiscono questo genere di molestia, terribile molestia che troppo spesso va poi a toccare addirittura la vita delle donne. Come avete sentito dal primo cittadino di Roseto, domani sera dalle ore 21 dal Lido La Lucciola partirà una fiaccolata in ricordo della dottoressa Esther Pasqualoni. La fiaccolata è organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Roseto. Il percorso si snoda dal Lido La Lucciola per proseguire sul lungomare, via Conti, via Nazionale per concludersi nella piazza antistante, la chiesa di Santissima Maria Assunta con un momento finale di preghiera. E rimaniamo sempre su questo argomento perché l'assessore regionale al sociale Marinella Sclocco prende spunto dagli ultimi fatti di cronaca per rilanciare la proposta di legge sull'omofobia e sulla parità di genere. Paolo Rizzetti Lei su queste tematiche auspica ampia convergenza? Io sì, perché ripeto, è una legge più forte quando è voluta da tutti. Questa è una legge importante perché difende davvero tutti, ma non solo, dà pari opportunità a tutti. E non possiamo più far finta che le cose non succedano sul territorio. Siamo nel 2017 e ancora oggi stiamo assistendo a femminicidi, assistiamo a pestaggi contro gli omosessuali. E c'è ancora una cultura in Abruzzo, che non sembra, ma è così, c'è ancora una cultura, c'è un retaggio vecchio di pregiudizio nei confronti delle donne, di pregiudizio nei confronti di chi ha orientamenti sessuali diversi, che in realtà l'orientamento sessuale non deve assolutamente interessare alla collettività. Ci spostiamo a Lanciano adesso perché con l'accusa di induzione e favoreggiamento alla prostituzione, il GIP di Lanciano Massimo Canosa ha disposto il sequestro preventivo del centro massaggi cinese situato nel quartiere Santa Rita, appunto di Lanciano. Secondo i riscontri investigativi dei carabinieri coordinati dal PM Rosaria Vecchi nel centro, oltre ai massaggi venivano praticati atti di natura sessuale. L'inchiesta è partita lo scorso settembre a seguito di numerose segnalazioni. I carabinieri hanno effettuato lungo questi mesi appostamenti e sentito diversi clienti, molti dei quali provenienti anche dal comprensorio frentano e adriatico. In merito all'inchiesta sono indagati una cinese di 33 anni che gestiva per l'appunto il centro massaggio, un lancianese di 70 anni invece che era titolare dell'immobile dove aveva sede il centro. Cambiamo argomento. Ammontano a 1.200.000 euro i fondi a disposizione delle imprese in crisi nell'area vestina. Il bando che nell'ambito della programmazione 2014-2020 ha una dotazione finanziaria complessiva di 16 milioni di euro è stato illustrato ieri pomeriggio in un convegno che si è tenuto in comune a Penne, il servizio è di Vestina News. Il nuovo bando di 16 milioni di euro della regione Abruzzo prevede incentivi per le aree di crisi, di cui 1 e 2 per l'area di Penne, ma che vede l'area vestina e quella della Valfino. Sì, è stata una scelta che abbiamo fatto, quella di inserire questo territorio nelle aree di crisi, una scelta non semplicissima perché non era area di crisi precedentemente, ma adesso non credo che c'è bisogno di motivare tutto quello che è successo, tutto quello che purtroppo i cittadini di questa area hanno dovuto subire. Però questa è un'area vitale, quindi qui conviene mettere denaro pubblico perché qui sappiamo che esiste, nonostante tutte le difficoltà, un tessuto vivo. Io continuo a ritenere che questa è un'area che deve mantenere la sua vocazione industriale, qui c'è un'azienda che è una gloria, non solo della Vestina, è una gloria regionale e nazionale che è Brioni. E voi siete in Abruzzo, secondo me, una delle aree che nella storia, voi qui avete le più belle imprese del vino, dell'olio, insomma siete l'eccellenza dell'Abruzzo. Siete l'eccellenza dell'Abruzzo e quindi non è tanto quello che l'Abruzzo o la regione può fare per voi, è quello che voi avete fatto e potete rincominciare a fare per tutti noi, ecco perché è proprio giusto eticamente e anche economicamente aiutarti. Questo bando sono piccole e medie imprese, adesso faremo una proroga di 15 giorni, l'abbiamo decisa proprio oggi e metteremo qui appenne a disposizione un funzionario della regione per fare incontri, il Paese e il Comune, incontri diretti con le imprese e quindi spiegargli esattamente quello che si fa. Il bando è molto semplice, tra l'altro l'adesione online è un bando in dei minimi, quindi fino a 200 mila euro per investimenti superiore ai 50 mila euro, ma insomma è una cosa che secondo me sarebbe un peccato farsi sfuggire. La regione Abruzzo si dota dello strumento che programma l'adattamento ai cambiamenti climatici. In Abruzzo negli ultimi 50 anni la temperatura si è alzata di un grado con problematiche pesanti sul dissesto idrogeologico, sull'agricoltura e sull'approvvigionamento idrico. Alfredo Primante. Università d'Annunzio di Chieti Pescara, struttura della regione Abruzzo e centro di documentazione dei conflitti ambientali, hanno dato vita a un primo stralcio del piano di adattamento ai cambiamenti climatici, frutto di un intenso lavoro di collaborazione e di messa in condivisione dei dati e delle elaborazioni. Lo studio è stato elaborato sulla base di specifiche linee guida e finalizzato a valutare l'evoluzione del clima nella regione Abruzzo negli ultimi 60 anni e fornisce un quadro rappresentativo delle diverse aree regionali permettendo di delinearne i mutamenti. 305 sindaci di Abruzzo sottoscrissero il patto per l'Abruzzo, il patto dei sindaci che sul tema dell'energia e dell'uso dei rinnovabili avevano sposato questa causa ottenendo anche un riscontro tangibile nel finanziamento di alcuni interventi sul proprio territorio. Dall'ottobre del 2015 c'è stata questa evoluzione, il patto si chiama non più per l'energia ma per il clima e l'energia e quindi anche in Europa da allora è entrata a pieno titolo questa tematica e quindi questo contratto fra gli enti locali con lo Stato e con l'Europa va risottoscritto. I dati raccolti mostrano che su tutto il territorio regionale vi è un evidente riscaldamento dell'atmosfera con un'intensificazione a partire dal 1990. L'intensità, le variazioni stagionali e quelle zonali danno un quadro dettagliato dell'evoluzione climatica regionale degli ultimi 60 anni e permettono la realizzazione di un pack puntuale che tenga conto delle peculiarità locali. La fotografia del cambiamento è la scomparsa in pratica dei ghiacciai o quasi nella nostra regione? Esatto, esatto. Quello è un termometro fondamentale. Il calderone, come sapete, è il ghiacciau più a sud dell'Europa ed è una riserva fondamentale, come tutti i ghiacciai, per quanto riguarda il potere idrico della regione sia dal punto di vista energetico ma anche dal punto di vista della vita di tutti i giorni e quindi quello è uno degli elementi fondamentali. Ma io non trascurerei nemmeno l'agricoltura perché ci sono effetti notevoli per quanto riguarda il fatto che alcune culture devono spostarsi a quote sempre più in alto, cominciamo a vedere i vigneti sempre a quote più in alto problemi con l'ulivo, come sapete tutti, anche dovute a specie infestanti che prima non c'erano quindi le conseguenze sono notevoli. Far partecipare i cittadini alle scelte della politica e questo l'obiettivo della proposta di iniziativa popolare per l'istituzione di strumenti di democrazia partecipativa in Abruzzo a partire dalle scelte nelle opere pubbliche sopra i 50 milioni. Vediamo. Trasformare il dibattuto tema della partecipazione dei cittadini alle scelte politiche da mera propaganda a fatto concreto per la regione Abruzzo. Il Movimento 5 Stelle e il coordinamento di democrazia costituzionale hanno presentato oggi la proposta di legge regionale di iniziativa popolare per istituire anche in Abruzzo strumenti di partecipazione alla programmazione e alle politiche regionali e locali. L'obiettivo è quello di dare un forte impulso al ruolo propositivo e di controllo dei cittadini abruzzesi realizzando l'effettiva partecipazione enunciata dal principio di sovranità popolare sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Innanzitutto il dibattito pubblico su tutte le opere di grande rilievo a livello locale e a livello regionale. Il dibattito pubblico preordinato a qualsiasi altro procedimento amministrativo. Poi la creazione di un osservatorio che è una organizzazione consultiva e propositiva a livello regionale è un garante perché la democrazia partecipativa non è una cosa che è alla portata di tutti. Ci sono esperienze in tutta Italia e in tutta Europa ma è un settore di studi. All'università la studiamo da oltre dieci anni e abbiamo quindi la possibilità di dare orientamenti e di fare proposte. Infine il sostegno. La regione deve sostenere il ruolo attivo dei cittadini attraverso l'intervento economico. Ci sono anche altre forze politiche però che potrebbero essere d'accordo con voi tipo Sinistra Italiana per attuare questi progetti? Noi lo speriamo, noi crediamo che bisogna andare oltre le ideologie, ci sono buone e cattive idee. Questa è una buona idea per cui noi siamo assolutamente favorevoli. E per ricordare la sciagura dell'aereo del 118 precipitato a Campo Felice lo scorso gennaio all'Aquila c'è stata l'intitolazione di una piazzetta della villa comunale alle sei vittime. Il servizio è di Daniela Rosone. Un'intitolazione per ricordarli, per ricordare le vittime dell'incidente dell'elisoccorso del 118. A loro è stato intitolato il piazzale antistante il monumento dei caduti della villa comunale. Si chiamerà Largo Caduti del Soccorso. Il 24 gennaio del 2017, come ricorderete, persero la vita durante un'operazione di soccorso sei persone a bordo di un elicottero del 118 che si schiantò nella zona di Campo Felice. Nella tragedia persero la vita il medico Walter Bucci di Rocca di Cambio, l'infermiere Giuseppe Serpetti di Arischia, il tecnico di bordo Mario Matrella originario di Foggia, il tecnico del soccorso alpino Davide De Carolis originario di Teramo e il pilota Gianmarco Zavoli originario dell'Emilia Romagna. Erano intervenuti per soccorrere un turista che si era rotto Tibi e Perone a Campo Felice, Ettore Palanca, morto anche lui nello schianto. Il 24 giugno a Campo Felice, sempre per ricordarli, sarà invece celebrato una santa messa di suffragio e ci sarà la possibilità di effettuare una passeggiata fino alla sorgente dove è stato realizzato un fontanile dedicato proprio all'equipaggio. Perché abbiamo scelto questo piazzale un pochino? Perché abbiamo voluto fare un po' un parallelo fra coloro che sono caduti per la patria negli anni e che vengono onorati qui con questo monumento che è un punto di incontro in tutte le celebrazioni importanti, con coloro che sono caduti per soccorrere gli altri, come segno di solidarietà. Quindi sono coloro che comunque sacrificano la loro vita per un ideale, per un valore, anche per un senso profondo del dovere, come è successo a queste sei persone, che alcune di quali fra l'altro erano anche amici e colleghi. Una giornata di intitolazioni per l'Aquila. Sempre oggi, infatti, alle 11, nell'ingresso del piazzale di Colle Maggio, c'è stata la cerimonia di intitolazione della strada a Donatella Tellini. Un modo per ricordare Donatella Tellini, una grande donna che tanto ha fatto per l'Aquila, per il suo generoso contributo a tutte le battaglie di libertà e autodeterminazione delle donne. Una mancanza, sicuramente, per la città, per quello che ha fatto, lascia un'eredità importante da proseguire, sicuramente. Il vuoto che ha lasciato è incolmabile. Ci sono persone che, andandosene però, continuano a colmarci di pienezza, nonostante tutto. E Donatella continua a fare questo. Oggi siamo qui per ricordarla. Una straordinaria femminista, una straordinaria donna che ha creduto nel valore della relazione tra donne. E da questo ripartiamo anche oggi. Il campione del mondo della pizza è Giulio Scappaticci, uno studente iscritto al corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari all'Università di Teramo. È stato recentemente incoronato all'Expo di Las Vegas ed oggi ha presentato alla stampa la sua specialità nell'ambito della manifestazione I Venerdì del Gusto. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Tra scienza, innovazione e gusto. L'Università degli Studi di Teramo, Fucina di novità nel settore delle bioscienze e tecnologie agroalimentari, organizza cinque appuntamenti per far conoscere attraverso un percorso sensoriale le ultime scoperte realizzate dagli studenti dell'Ateneo. È un'iniziativa che porta a evidenziare la presenza della scienza nel piatto. Scienza intesa sia come caratteristiche dei prodotti che vengono consumati, ma anche nelle modalità di preparazione. Abbiamo cominciato la settimana scorsa con i confetti. Erano dei progetti portati avanti con un visiting professor dell'Università di Israele. Quindi la preparazione di confetti salati e dolci per far uscire questo prodotto dalla nicchia della ricorrenza. Quindi per proporlo ad esempio anche come aperitivo a altre occasioni di consumo. Oggi parliamo di pizza. Pizza prodotta con ingredienti particolari a valenza salutistica. da un nostro studente lavoratore che lavora presso un molino che fa farine di qualità. Poi andremo avanti con il naso elettronico e olio d'oliva. E poi parleremo di ultracentenari, quindi l'impatto della dieta sulla durata della vita. E in Abruzzo abbiamo un numero ragguardevole di ultracentenari. La nostra convinzione è che questo sia legato fortemente all'alimentazione. E poi chiudiamo con il vino cotto. Per questo venerdì del gusto Giulio Scappaticci, studente dell'Ateneo Teramano, iscritto al corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, ha presentato tre tipologie di pizza. Due innovative ottenute con farina alla curcuma e alla canapa e una margherita tradizionale. Scappaticci è diventato un pizzaiolo di fama mondiale, un campione vincendo a Las Vegas l'International Pizza Expo. Giulio tu fai la pizza più buona del mondo, ma che ci metti? L'ingrediente principale secondo me è la passione che ho per la pizza. Unita anche allo studio che faccio in Scienze e Tecnologie Alimentari qui presso l'Università di Teramo, appunto studiando i giusti abbinamenti, la cottura, le varie reazioni durante la cottura, le varie reazioni durante la fase di lievitazione e di maturazione del lievito di birra, della preparazione del lievito madre, quindi la fermentazione acida, alcolica. Secondo me studiare per il lavoro è una cosa fondamentale. Insomma sei uno scienziato della pizza. Sì. Complimenti allora a Giulio Scappaticci. Cambiamo argomento, cultura, spettacoli ed enogastronomia. Sono al centro del ricco cartellone estivo del comune di Loreto Aprutino. Primo evento domenica prossima. Maria Mascioli, oggi a Loreto Aprutino si inaugura il cartellone estivo con delle belle manifestazioni che spaziano dalla cultura alla gastronomia. Sì, un cartellone estivo del 2017 è veramente molto ricco di eventi che diciamo che è un po' per tutti i gusti, accontentano i bambini, ma poi soprattutto per promuovere il nostro territorio. Ci sono degli eventi anche di un certo rilievo quasi mondiale. C'è infatti l'inaugurazione della mostra di Michael Kenna, un fotografo di fama mondiale e che sarà inaugurata al Palazzo Casa Marte l'8 luglio. Ma poi ci sono tanti eventi, musica, sport, cultura, promozione del nostro territorio per quanto riguarda anche i prodotti enogastronomici, anche per quanto riguarda l'architettura del nostro paese, quindi visita ai musei, mostre, ce n'è di tutto e di più. Adesso apriamo la pagina dello sport perché ben quattro abruzzesi, tre dei quali originari di Pescara, siederanno su panchine di serie B e sfideranno proprio i biancazzurri di Sdenek Zevan nel prossimo campionato. Negli ultimi due giorni sono stati presentati Fabio Grosso e Vincenzo Vivalini, rispettivamente neo-allenatori di Bari ed Empoli, il servizio di Andrea Costantini. Quattro abruzzesi, tre dei quali pescaresi, saranno fieri avversari del Delfino nel prossimo campionato di serie B. Strano destino per il Pescara che si affiderà al maestro Zevan per respingere la carica di alcuni dei suoi figli prediletti. Roberto D'Aversa, confermatissimo a Parma dopo il trionfo nei play-off di Lega Pro, Fabio Grosso, dopo quattro anni prosperi alla primavera della Juventus, debutta in B a Bari. Andrea Camplone, confermato a Cesena dopo la salvezza dell'ultima stagione. A questi tre pescaresi si aggiunge Vincenzo Vivalini, che di Pescara non è, ma che a Pescara ha iniziato ad avere a che fare con il calcio che conta ed ora guiderà il retrocesso Empoli. Potevano essere cinque gli abruzzesi, ma Massimo Oddo, che comunque resta sotto contratto col Delfino, è stato superato al photo finish da Tedino per la guida del Palermo. Nelle ultime ore sono stati presentati Fabio Grosso e Vincenzo Vivalini. Per l'eroe del Mondiale del 2006, Bari è un test d'ingresso nel mondo dei grandi, davvero probante. Ringrazio la Juventus, la società Juve, che mi ha dato l'opportunità di iniziare questo nuovo mestiere. Sentivo l'esigenza di terminare quello che avevo fatto fino a pochi mesi fa, cioè l'allenatore dei ragazzi. Avevo voglia di confrontarmi nel mondo dei grandi. Nella mia vita, a livello sportivo e anche a livello umano, ho sempre accettato tante sfide, tantissime. Quelle che ho accettato sono sempre state fatte, perché pensavo di poterle superare. E anche così ho fatto questo tipo di scelta. Dopo i pattimenti societari di Latina, Vivalini è pronto a cimentarsi in una piazza che è stata trampolino di lancio di fior di allenatori. Primo obiettivo, ricreare entusiasmo dopo una retrocessione. Si viene da una retrocessione effettivamente non bella, quindi di conseguenza c'è da un attimino cercare di ricreare un progetto nuovo. Adesso è importante ripartire dove avevo lasciato lì a Teramo, dove si è vinto un campionato. E' anche lì che poi ci è stato tolto la Serie B, quindi vengo da un po' di disavventure che mi hanno dato una rabbia dentro, che secondo me è la cosa che più in questo momento qua occorre a Empoli. Quindi spero di riuscire a trasmettere tutto questo e spero soprattutto di avere una squadra come ho sempre avuto che rispecchia i miei valori e soprattutto i miei principi di calcio. E allora in bocca al lupo anche ai quattro allenatori abruzzesi che disputeranno il prossimo torneo cadetto. E sempre in Serie B rimaniamo, ma adesso andiamo davvero in casa pescara perché Gaston Brugman potrebbe lasciare la squadra bianca-azzurra. La sua portenza potrebbe essere utile alle casse del Delfino. Il presidente Sebastiani si muove comunque su più fronti per formalizzare delle operazioni in uscita entro il prossimo 30 giugno. Il futuro di Gaston Brugman potrebbe essere lontano da Pescara. Regna ancora incertezza sul destino del centrocampista uruguaiano nativo di Rosario, ma per il Pescara potrebbe essere comunque manna dal cielo. E' noto che il presidente Sebastiani in questo periodo è molto attento ai movimenti in uscita. Servono quelle entrate utili a mettere in equilibrio il bilancio. Movimenti che c'è necessità vengano ratificati prima del 30 giugno. Così una partenza come quella di Brugman può risultare funzionale allo scopo. Il giocatore, già in passato vicinissimo a indossare la casacca del Villareal, ha estimatori all'estero. In Spagna, sempre con lo sottomarino giallo in prima fila. In Belgio, il Genk. Fino anche oltreoceano con alcuni club messicani che hanno chiesto informazioni. Un'altalena quella di Brugman. Prima al centro del progetto tecnico di Oddo in Serie A. Poi, inspiegabilmente messo da parte da Zeman, appena il Boemo è stato chiamato al capezzale del Delfino. Salvo poi lo stesso Zeman impiegarlo e rivalutarlo nelle ultime gare di campionato. Qualora dovesse andare via, le chiavi del centrocampo sarebbero affidate all'ex Bassano Proietti a meno di altri colpi nelle prossime settimane. Tra i centrocampisti, indiziato per una partenza il capitano Lejan Memushai, per cui il Benevento sembra aver superato la vasta concorrenza, ma deve ancora affondare con una offerta convincente. L'operazione Coulibaly è sostanzialmente strutturata, ma l'Inter vorrebbe attendere prima di formalizzarla, a discapito del Pescara, che avrebbe interesse a chiudere entro il 30 giugno. Zampano, Ben Ali, Biraghi restano altri giocatori potenzialmente appetibili e cedibili e con i quali il presidente Sebastiani proverà a fare affari entro questa settimana. Lo stesso Sebastiani attende sviluppi circa l'operazione Skriniar, che potrebbe portare Gianluca Caprari a titolo definitivo alla Sampdoria. Avendo titolo il Pescara al 50% della rivendita, nelle casse bianca-azzurre potrebbe finire una cifra tra i 4 e i 5 milioni. Intanto è ufficiale l'arrivo a Pescara del centrocampista Andrea Palazzi, in prestito dall'Inter. L'annuncio è stato dato sui social dall'agenzia che ne cura gli interessi, la BIA Soccer Agency. Contestualmente Palazzi ha prolungato il suo contratto con l'Inter fino al 2021. Scendiamo in Serie C, adesso weekend di riflessione per il Teramo, che a partire dalla prossima settimana inizierà gli incontri con i componenti della Rosa. In molti, dunque, potrebbero presto lasciare la casacca bianco-rossa. Da lunedì il Teramo inizia davvero a voltare pagina. Infatti, dopo il weekend di pausa, che consentirà di fare le ultime riflessioni con l'inizio della nuova settimana, il direttore sportivo Giorgio Ripetto comincerà le consultazioni per comunicare ai giocatori che non rientrano nei piani tattici del diavolo, che sono sul mercato e che con un'offerta possono partire. I primi sul taccuino sembrano essere il centrocampista Pietro Baccolo e il terzino Raffaele Imparato, che arrivati nel mercato di riparazione non sono riusciti, per svariati motivi, a migliorare il tasso tecnico generale della squadra. Poi verranno gli altri, anche perché una volta capite le intenzioni dei singoli giocatori, si avrà un quadro più definito su dove e come intervenire. Come già ribadito, sarà un discorso che potrebbe non interessare solamente quegli elementi che hanno avuto un peso marginale quest'anno. Anzi, stavolta il Teramo ragionerà in maniera inversa, ha dei punti fermi che confermerà. Per tutti gli altri si cercheranno o soluzioni alternative, o, eventualmente, e qualora a stadia l'assenso, si proverà un recupero psicologico prima che fisico. Per le entrate ci sono in pole position, ventola, Bruno e Valagussa, tre nomi che andrebbero a puntellare la zona centrale del campo, gli ultimi due, e a rinforzare un pacchetto esterno di difesa che potrebbe subire, appunto, la partenza di Imparato, ma anche di Carcalis. Sul terzino Scuola Pescara, però, ancora nulla è definito. Mentre la questione Sansovini è una delle più complesse. Il ragazzo non ha sfondato nelle preferenze dei tifosi biancorossi, ma l'estate scorsa, per sposare il Teramo, Sansovini ha fatto una scelta di vita, rinunciando a trasferirsi in una squadra del nord. Adesso, a 12 mesi di distanza, non vorrebbe vedere vanificata completamente quella scelta. Repetto, che lo conosce molto bene, ci parlerà a fondo per capire se e quali margini ci siano per muoversi. Solo dopo sarà presa una decisione definitiva, che ad oggi, però, non è per nulla scontata. Intanto sembra allontanarsi l'ipotesi Polidori. L'ex Arezzo piace anche in Serie B, e questa eventualità potrebbe complicare un approdo in casa Teramo per la prossima stagione. Parliamo di ciclismo adesso, perché il patron del trofeo Matteotti, Renato Ricci, ospite ieri sera della nostra trasmissione Velo, ha parlato della mancata assegnazione del campionato italiano alla classica pescarese, ribadendo però che la settantesima edizione in programma domenica 16 luglio sarà garantita. In dicembre ho avuto la più grande delusione, perché in quanto tutti gli organizzatori italiani erano a favore del trofeo Matteotti per i 70 anni, stranamente non decidevano, ed è stata una cosa molto strana, perché si è prolungato per diversi giorni, perché evidentemente sapevano già che doveva andare in Piemonte. E diciamo che eravamo quasi certi, ma lo erano anche i nostri colleghi. Poi, siccome, come tante volte succede, è uscito qualcosa di più importante, e chiaramente davanti all'interesse l'amor mi passa. Quindi siamo rimasti veramente delusi. Ma non solo io deluso, io deluso per i miei collaboratori, per tutte le persone che sono legate al trofeo Matteotti e la popolazione di Pescara, a prescindere se ci va o non ci va, si chiede il Matteotti quando si fa, il Matteotti si è fatto, perché diventa quasi una questione familiare. Facciamo buon viso a cattivo gioco, io avevo fatto una promessa, e io le promesse le ho sempre mantenute, e quindi il settantesimo si andrà a fare. Politicamente, dico la verità, forse potremmo avere un riconoscimento, perché sono stato autorizzato a dirlo, molto probabilmente alla presentazione verrà il ministro Lotti. Tutti questi anni l'interesse l'ho sempre visto, l'ho toccato, anche perché sapevano che il trofeo Matteotti era un palcoscenico importante, perché col trofeo Matteotti molti hanno avuto dei successi, ma spesso, diciamo, quando li avevamo un po' contro, questi successi non li avevano più, quindi il trofeo Matteotti ha dimostrato anche di essere forte, fino in fondo, perché noi abbiamo uno spettacolo mediatico, che certo non è più come quando era 30 anni fa, che c'erano migliaia e migliaia di persone, perché adesso anche allo stadio, il Pescara quando giocava 20 anni fa, c'erano 43 mila persone, adesso ce ne sono 18 mila, però ti dice un Presidente, tanto mi bastano i milioni che prendo dalla Federazione, noi non li prendiamo questi soldi, noi non prendiamo niente, ieri abbiamo pagato 20 mila euro per il Montepemi, cioè noi diamo casomai, ma non riceviamo niente, quindi è chiaro che un po' di aiuto lo riceviamo, lo dovremmo ricevere dalla Comune e dalla Regione, perché la provincia ormai, anzi qualcosa che hanno messo tre anni fa in bilancio, non si sa perché, sono spariti. Il Matteotti, un'altra possibilità di fare il campionato italiano, se la darà oppure no? Ci riproverà il trofeo Matteotti? Io credo che il trofeo Matteotti, detto di tante persone che forse ne capiscono più di me, al nord che organizzano gare, lo potrebbe fare in qualsiasi anno, in qualsiasi momento lo potrebbe chiedere, quindi io sostengo che è stato fatto un grande torto all'Abruzzo. E questo era anche il nostro ultimo servizio, vi ricordo la terza edizione del nostro TG alle ore 23. Per il momento è tutto, grazie e buona serata. Grazie a tutti.